Il lupo a nord e il falco a nord Nuovo carico Così tu possono pure cercare qui o l'amore Questo cazzo si stanno a sparare C'è Fuori qui Eh, dove ne ho dovuto? Ricarico No, no, vieni Se rimani in questa zona il nemico ci scoprirà Ah, no, no Dove è che ti apri? Vengo bene lì Quanto cazzo? Ultimo attaccante rimasto in vita Cos'è? Cronos max Plus play XC Mavex 140 euro Fuori di buono ma tanto Qual è il Cronos? Cronos max Last game Sì 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 All'un Uno statue a scale Aiuto Aiuto Sì 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 Grazie Sì 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 Madonna quanto cazzo sono forte Non hai ancora finito